ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie game play ita oggi siamo su nuovamente su ivo online con questo video registrato l'ho registrato qualche giorno fa adesso lo commento insieme a voi per notiziarvi un pochino di quello che è cambiato avevo fatto un video in cui mi ero lamentato un po amareggiato un po deluso un po triste del fatto che nessuno potesse aiutarmi in realtà mi sono ricreduto ma perché il buon fara ha intercesso si dice così per me in una corpo e insomma sono entrato ovviamente non faccio vita attiva nel senso che è lui più che altro che mi segue gli altri mi sono stati molto utili perché in questo gioco la collaborazione tutta infatti mi hanno fornito mi hanno procurato una nave che poi il buon fara ha pagato per me insomma mi hanno suggerito sui moduli quindi veramente un gioco per appassionati di spazio quello che vediamo ora ne parleremo poi nel corso di questo video quello che sto facendo ora è una delle mille attività a fine video vedremo tutte le attività possibili in ivo sto scansionando usando delle probe una nave che costa circa 6 milioni quindi fattibile nel senso qualcuno ve la poi vi può aiutare a procurarvela si scansionano quelle anomalie che vedete segnate in rosso lì nel menu sulla sinistra scansionandole all'interno è possibile trovare dei wormhole che in questo video andremo a vedere e delle data delle relic che sono in pratica delle banche dati di stazioni distrutte o antichi reperti una volta scansionati e trovati li dovremo aprire c'è un mini gioco di hackeraggio di hacking che vedremo in questo video molto molto interessante e ovviamente tutto quello che sto facendo i tempi che ci sto mettendo a scansionare l'abilità di decryptare con il gioco dell'hacking è tutto determinato dalle mille milla skill che voi avete anche il controllo della nave la velocità il modo in cui sfruttate ogni singolo modulo della nave è in pratica determinato anche dalle skill quindi veramente c'è da skillare per anni volendo quindi dovete determinarvi bene che cosa volete fare mi sono ricreduto nel senso che non sono stato trattato benissimo da due corpi italiane che ovviamente per i punti che avevo non gli ero minimamente utile e sono stato aiutato da un'altra corpa non farò pubblicità insomma adesso vedete abbiamo trovato il wormhole e abbiamo anche un data site entrambi quando vengono scansionati sopra il 25 per cento da nome generico diciamo ci viene specifica specificato che cos'è ora io sto tentando di concludere la scansione ingrandendo un po insomma questo metodo di scansione molto simile a quello che si fa per scansionare le altre persone nello spazio quindi nel caso in cui qualcuno ci stesse seguendo insomma possiamo andare a vederlo perché qua è tutto in dimensioni scala 1 a 1 quindi è tutto dimensione reale sto diminuendo anche l'ampiezza in modo da poterlo scansionare correttamente vedete lo vedete lì 31 per cento adesso leggo perché sono nel software di montaggio video quindi è un po sgranato ma dovrebbe essere una cifra abbastanza bassa adesso dovremmo concludere o quasi vedete che adesso stiamo concludendo allora mi sono ricreduto perché perché fa perché la corpa mia mi hanno aiutato mi hanno insegnato tante cose tante cose che nessuno avrebbe la pazienza di insegnare quindi dal mio punto di vista c'è speranza per tutti ovviamente quello che dovete considerare prima di iniziare un gioco del genere che l'impegno ci vuole comunque non è che la gente vi viene vi dalle navi e basta nel senso che lo può anche fare lo fa una volta ma nel momento in cui non vi impegnate sparite per dei mesi tornate volete nuovamente aiuto non ve lo da più oppure andate perdete la nave in modo incosciente senza ascoltare i consigli che qui valgono come oro insomma non vi aiutano una seconda volta ma è giusto e lo farei anch'io è un gioco in cui alla base di tutto deve esserci l'impegno vostro l'impegno di voler imparare l'impegno di voler mettervi a fare tutto questo è uno dei pochi giochi che vi ho trovato con la parte diciamo centrale la più importante sono dove sono i soldi in pratica perché ho visto tanti giochi in cui ero interessato a far soldi mi dicevano i soldi in sto gioco non conta niente con un tale equip e rifatti in realtà qua conta ma ve lo gestite un po anche con i soldi che avete potete permettervi di fare mille cose addirittura andare a giocare anche in una sorta di casino di gioco d'azzardo con i soldi che guadagnate potete investire nel mercato potete trasportare merci ma su questo discorso ci arriveremo alla fine quello che mi ha depresso arrivando in questa corpo a grazia fara è come vedete in alto a sinistra il meno 0.2 non è verde è rosso quindi questa è una zona senza completamente senza polizia polizia quindi non polizia quindi se qualcuno vi attacca vi distrugge non gli fa niente nessuno anzi in basso a sinistra notate che c'è il mio nome il mio nickname e a fianco nessun altro quindi non c'è nessuno ma se qualcuno entra in un allo stemmino verde o blu quindi non è della mia alleanza o della mia corporazione ma è neutrale insomma sconosciuto è potenzialmente uno di loro un po come gli agenti l'agente smith su matrix gli agenti e nel senso che può uccidervi può fregarvi la roba che resta dai relitti e uccidendovi comunque aiuta anche la sua corpo quindi insomma ovviamente uno che sta esplorando come me in questo momento non è un gran bottino a meno che non abbia scansionato e raccolto redditi che importanti di un certo valore e quindi bisogna sempre fare attenzione qua e la cosa che ho veramente mi ha depresso tanto infatti fa si è sorbito tutto il mio mio spiegone delle cose che mi lasciano perplesso è il fatto che voi iniziate iv chi di voi l'ha già iniziato ha giocato solo in isec quindi quelle quei zone dello spazio molto sicure c'è un mercato impressionante ogni oggetto che vendete c'è qualcuno che ve lo compra qualsiasi cosa dalla rottame inutilizzabile alle cose più belle qua niente il market non esiste l'unico modo è tornare in in isec quindi lasciare questa zona e andare tornare indietro però sono 17 salti con possibilità che ci sia gente che aspetta la gente che punto viaggia e la distrugga qui se io porto 100 milioni di roba insomma no no buono mi distruggi mi porta via tutto e quindi non si può non si può a meno che appunto qua subentra quello che andremo a vedere a breve cioè il wormhole oppure i mille servizi che offre questo gioco grazie giocatori grazie a corporazioni che fanno trasporti quindi voi li pagate gli fate un contratto vi portano la roba e la roba ve la ritrovate di là in in isec dove potete fare una copia di voi stessi teletrasportarvi lì e poi tornare dopo 24 ore oppure morendo impostando il punto di respawn qui quindi in pratica quello andate là col jump clone vendete la roba qua intanto mi sono accorto che è un un rarissimo wormhole che porta in un settore sicuro diretto quindi senza uno spazio diciamo di wormhole dove possono anniviarsi pirati o altri giocatori quindi è diretto molto comodo e infatti poi proveremo ma ho preso coraggio l'ho fatto detto sperdo la nave c'è qualcuno di là ma è difficile però ci provo magari al massimo mi ricompro la nave insomma e quindi insomma dovete trovare il modo di venderle le cose perché qua se morite la nave non la potete ricomprare quindi o avete un compagno di gilda di corporazione per intenderci gilda la chiamo ha già una nave lì nel magazzino ve la dà o ve la crafta con i materiali che quelli alla fine si raccolgono ovunque quello che sto facendo adesso è mettere un segnalibro in pratica per tornarci non serve perché l'ho già scansionata però se sloggo e riloggo io la lascio lì per un po di ore o giorni e ho il bookmark il preferito di quel posto lì così posso andare posso depositare tutto in base e tornare e e se nessuno io ho capitato di mi è capitato una nave da da battaglia per il pv e quindi pratica il il tutto quello che è l'attività contro il computer non il pvp ho perso i droni che lottavano e sono rimasto due giorni senza perché non ho trovato nessuno come potesse fare mi sono un po arrangiato e imparato questo è il minigioco praticamente poi va beh spiegarvelo è difficile bisogna arrivare alla fine ogni numero ci indica quanta distanza c'è qualcosa di utile è una sorta di campo minato ogni tanto si incontrano anche i virus che ci abbattono hanno una forza una vita e una un danno che fanno e vanno abbattuti vedete che lì è uscito uno e ho preso e lì a fianco c'era subito un'altra cosa qua invece io sono praticamente morto credo perché no ce l'ho fatta e qua ho trovato un altro virus ma non ho più vita quindi tento di andare da un'altra parte anzi deciso di rinunciare e ci sono due tentativi per poterlo fare al secondo esplode non si muore almeno in queste queste raccolterate vedete lontano uno trovato una chiave inglese che mi interessa perché nel giro di tre turni mi cura la cura è la quella barra sul basso a sinistra arancione qua trovato un virus lo abbatto uso la cura così intanto ogni turno ogni passo che faccio mi riparo e in base a il danno che fate determinato dalla skill di hacking o di che altro e quei pallini sono sorpresa può essere un virus potentissimo invece vedete quello lì giallo è l'uscita diciamo il virus finale a questo punto vinto questo possiamo aprire e all'interno troviamo cifre che vanno da 10 mila fino a mi diceva fare anche 600 milioni e l'account si può pagare con i soldi di gioco serve più o meno un miliardo e sei fate calcolo che ok mi hanno donato una nave da 250 milioni farama ha donato 100 milioni poi vabbè ho comprato io un pacchetto però alla fine ho oggi ho guadagnato 100 milioni sono a circa quasi un miliardo e mi mancano ancora diversi giorni mancano 10 giorni sono 20 giorni un miliardo calcoliamo ne ho fatti 500 impegnandomi gli altri me li hanno più o meno regalati quindi sono soddisfatto credo che impegnandosi non sia neanche difficile a ripagarsi l'abbonamento il problema arriva nel momento in cui non non avete le skill alte come me e c'è tanto da aspettare alcune skill richiedono anche 17 giorni 20 giorni quindi ho accumulati i miliardi e invece che pagarevi l'abbonamento comprate dei booster che vi potenziano e vi fanno saltare due settimane un mese di skillaggio e quindi ottenete già le skill per fare più per fare prima oppure aspettate non è che ci sia ho usato i soldi veri perché un pari plex però plex li comprate anche per rinnovare l'abbonamento quindi si parte che potete con i plex li comprate e poi li convertite in soldi quei soldi comprate i booster in pratica non è che però non è un gran pay to win senso che io adesso qua nel gioco non so ancora giocare bene poi in realtà qualche giorno dopo fara mi ha spiegato bene proprio tutta la la potenza di ogni virus che cosa fa ogni disegno di virus quelli che vedete che ora adesso ho ignorato lì in alto al centro adesso questo virus che io sto ignorando è potentissimo potenza tutti gli altri fin quando non lo distruggo io non lo faccio quindi mi sto proprio comportando malissimo come non dovrei ma imparato dopo li ho azzardato aprendo il puntino luminoso tante volte ci trovate dentro un virus però ho raccolto tanti bei pezzi utili e di riparazione adesso sto andando un po a caso verso l'uscita sperando di trovarla in tempi brevi e sto usando dei potenziamenti per abbatterlo quindi insomma il gioco è bello vi deve piacere ovviamente lo spazio e non è per tutti io continuerò sempre a ribadirlo eccolo lì l'uscita io mi riparo mentre lo attacco ma quel virus soffre ok no ce l'ho fatta ce l'ho fatta non mi ricordavo dove ce l'ho fatta e ovviamente io quello che sto facendo ora è pwe quindi affrontando i pirati sono delle ondate sto scavando ghiaccio che vendo vendo anche qua in corporazione si può vendere alla corporazione che te la compra dipende dalla corporazione dove siete perché non è che c'è un mercato qua quindi o prendo ghiaccio lo metto in una nave lo spedisco di là nei settori col mercato e me ne va e poi vivendo lì e oppure vedete adesso qua sono saltato nel wormhole mi sono ritrovato in un settore 0.9 dall'altra parte lontanissimo dove ero nel settore dove ero prima dove fare al mio paese mi ha portato di qua mi salvo l'uomo per tornare a casa perché ovviamente se no dovrei scansionarmi l'anomalia dall'altra parte per scoprire che un wormhole che porta di là invece me lo salvo arrivo qui e niente calcolate solo che sono andato qui ho venduto tutto 55 milioni di roba che ho raccolto vedete ce l'ho lì 52 milioni mi pare che ce l'ho lì in basso a destra tutte le roba che ho raccolto in una giornata di analisi e brevemente sono venuto qua ho venduto sono tornato di là poi nel pomeriggio è ancora aperto sono tornato di nuovo e mi sono comprato un'altra nave da esplorazione come questa però sono venuto da solo in capsula e così mi sono portato indietro la nave nuova una nave di scorta dove ho potuto adesso ne ho lì due in pratica se una me la scoppiano ne ho già lì una pronta inizierete un pochino a capire come agire come fare tutte queste cose col tempo ovviamente dicevo io scavo ghiaccio faccio pirati vado a fare le analisi le scansioni e questo è tutto l'elenco delle cose che si possono fare vedete esplorazione adesso saltato tutta la prima parte del pwe però in pratica si scansiona si fa l'hacking queste sono tutte le possibilità del gioco lo trovate in internet si possono fare appunto il ratting uccidere uccidere i rati insomma i pwe ci sono le incursioni le incursioni in settori le missioni le missioni soprattutto in icec dovrebbe esserci qualcosina anche in null sec quindi nelle zone non sicure si possono fare alcune cose sono tagliate perché non ci stavano in video però si possono fare queste sono tutte le attività in icec quindi tutte nel settore diciamo più sicuro quindi si può fare veramente rubare il loot agli altri si può fare il doppio account attaccare dove c'è la zona di sicurezza così la polizia uccide il nostro primo personaggio e col secondo lootiamo il tizio che abbiamo ucciso c'è cosa proprio di truffa anche si possono camperare le stazioni uccidere chi esce sono tutte cose molto di pirateria quelle lo scamming si può truffare la gente in gioco proponendo dei contatti fittizi o mettendo cose in automatico con un prezzo alto così la gente distrata fa vendi e lo vende magari un prezzo bassissimo lo acquista un prezzo altissimo sono tutte truffe che potete fare un gioco un gioco cattivo come la vita reale si possono fare corporazioni ci sono tutte le vite di corporazione si può fare spionaggio per una corpa entrate in una corpola spiate sono tutte cose che il gioco approva in alleanza potete fare le difese insomma partecipare agli scontri di massa il mercato il mercato vi consente di giocare col mercato quindi fare vi fate una corporazione voi prestate soldi ok la gente però a suo rischio e pericolo li truffate c'è gente che ha fatto le corporazioni banche dove gli interessi e tutto c'è tutta una gestione economica dietro prestare soldi appunto oppure giocare speculare sul mercato comprare tutto un modello di un prodotto in una zona e poi specularci sopra potete fare quello che volete anche da questo punto di vista la produzione anche c'è potete addirittura coltivare personaggi quindi magari comprate un account cioè comprate attivate un account e attivate il premium fate salire questo personaggio le skill aspettate mesi e mesi e mesi lo vendete lo vendete a soldi di gioco oppure registrate le skill e vendete quelle skill inglobate in un potenziatore potete fare produzione di strutture produzione di capital ship i vari tier t1 t2 t3 dei vari cose dei vari oggetti potete fare l'auling che è il trasporto fate trasportate roba vi fate una nave equipaggiata bene magari con qualche micro da soli con una nave molto veloce ma molto capiente vi trasportate le cose alla gente come me che magari è in nullsec zone non sicure vuole trasportare tutto in zone sicure lo fa c'è la planetai interaction nell'estrazione quindi potete minare le lune e costruire edifici estrarre batteri estrarre minerali direttamente dal pianeta diventa un gestionale a tempo dove costruite gli edifici varie cose potete minare l'oro ghiaccio le pietre il ghiaccio i gas potete fare l'education che è una cosa molto bella c'è chi si dedica a insegnare il gioco creare guide creare una community una corporazione una cittadella libera fare streaming del gioco fare gioco di ruolo cioè veramente c'è il mondo giornalismo potete fare le notizie per conto di tutti gli altri giocatori non finisce mai questa cosa e insomma ci sarà da divertirsi alla prossima ragazzi e ciao 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 ciao